Incidente mortale questa mattina, martedì 25 dicembre, poco prima delle 6, sulla strada provinciale 222, nei pressi dell'incrocio per Torre Bairo. Coinvolte due vetture, una Citroen C3 con a bordo una coppia e una Fiat Idea con un uomo alla guida. L'impatto è stato davvero violento, la parte anteriore della C3 è andata distrutta, il motore si è staccato ed è finito nel fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, la croce rossa di Castellamonte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e i carabinieri di Castellamonte. Inutili tentativi di salvare il conducente della C3, un 26enne di Nichelino. La passeggera, una 28enne, dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco, in gravi condizioni. Ferito, non in modo grave, il conducente della Fiat Idea, un 59enne di Samone, che è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, accertamente in corso sulla dinamica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.